Idea, la trasmissione di RTV38 che vi segnala gli eventi più interessanti e degni di nota della nostra regione. Iniziamo subito con alcuni appuntamenti da non perdere. Al Teatro Verdi di Firenze in scena la regina di ghiaccio. Vediamo quali sono gli altri eventi in Toscana. Palazzo Strozzi ospita il 500 a Firenze, tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna. Altre idee per questo fine settimana. Al cinema il film Il Vegetale, con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti. È tutto, alla prossima puntata di Idea, la Toscana da vivere.